Oh eccoci qua ragazzi niente dobbiamo andare qua ho molta paura queste ragazze danno problemi Non direi che si può scegliere di sbirciare Vabbè tanto hanno solto solo i pantaloni cioè hanno solto solo le scarpe tranquilli non è che sono nude Comunque Ok Natsukashino Oh mio dio sul serio? Oh mio dio quanto sono adorabili Oh mio dio sono fantastico Bene andiamo Ehm Si ok Sì 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 No, veramente pure qua c'è No, ti prego, sul serio Anche qua ci sta, no, vabbè Ok No, vabbè Ho paura Premi una volta Premi più volte Ahia Tieni premuto Eh ma io non la conosco Ok Ok Oddio ma è bellissimo Razzia di... Ma dai È stato un errore Scarso Capito È stato un errore Ahia Ahia Ahahahah! Ahia! Fatto male. Sì, però devi cambiare. Sì, ma non c'è nessuno. parato aspetta zitto zitto per la per la formazione del settimo fanteria è necessaria durare almeno cinque gruppi di fanti in giro per raggiungo che a seconda del corpo di appartenenza dei soldati radunali con portai cambiare la formazione da inviare alla parata a bellissimo ok ma dai un minigioco bellissima sì perché almeno gioco compiere con successo un'esibizione difficoltà preme permette di ottenere una valutazione alta ha pure quindi allora aspetta dietro di me ci sarebbero o i verdi rossi e i gialli dove pensi forse ho capito ho qualcosa a dire con te madonna qua c'è il mio amico dictator il mio amico dictator morirebbe per una come questa si farebbe si farebbe picchiare parà ente se idone chanel no 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 La scuola è la scuola di Rufaus. Wow! Cloud! E' un'altra parte! E' un'altra parte! E' un'altra parte! Oh! Ecco qua la città! Bellissimo! Madonna! Quanta roba! Quanta roba! Ah... Midgaru, dei sottotitoli. E' un'altra parte della città. E' un'altra parte della città. Andiamo! Buongiorno! Sono SN.net. Adesso dovrebbe essere un'altra parte? Potremmo potremmo aiutare l'interview? Grazie. Adesso abbiamo visto un palado? Che bello! Guarda lì qua! 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 Sì! E' bellissima! Che vuoi? Oddio! Ma il capitano! E' quella cosa! Ahia! L'ha adorata! Mi è piaciuta la scenetta! Oddio! La scimmiera della città! Il capitano! Il capitano! Grazie! 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 ok ok allora mi stanno qua beh voi rimanete qua per una donna come mi secolo oddio vediamo qualche cosa c'è madonna propaganda bellissimo no vabbè ma è bellissimo qui dentro oddio ma mi seguite veramente anche qua minchia che ansia ma donna che ansia bellissimo però guai ma è stupendo signori ok è geniazzo la 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 Grazie a tutti Grazie a tutti E' comunque bellissimo No, mi sta piacere un sacco E le ambientazioni sono stupende, signori Un, due, tre, stella Un, due, tre, stella Chi va lontano, chi fa per tre Buono lo so E qui? Mi pedi non ho vun come te ansia Però è bellissimo Non c'è problema, volevo capire cosa c'è Mi pedi non ho vun come te ansia Mi pedi non ho vun come te ansia Oddio, ma c'è cosa là? Ma c'è? Mi pedi non ho vun come te ansia 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 Quanto mi pedi non ho vun come te ansia Quanto mi pedi non ho vun come te ansia La luce è scude Guarda, è luce Che cosa c'è? Ok, andiamo Uh, e qua che cosa c'è qui? Madonna che cacchio è un distretto di comunicazioni? Posta e c'è quelli che stanno distendendo l'altro. C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che 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 c'è un po' il giudice ahahah allora di qua sono tutti bella la formazione nostra comunque sto controllando ancora altro in giro prima di spostarmi letteralmente fuori ok comunque è una mera madonna bellissimo come il tonetti e te biatore così sono già entrato ok vero conviene uscire usciamo signori uscite uscite mi pro di figo ok ok sto riflettendo wow madonna eh il codice d'armamento non ho non ho trovato guarda d'armamento non ho Sì 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 Ok Questi sono altri colori Fammi vedere un attimo l'organizzazione dei colori Dove siete signori? Allora Due gruppi qua Servebbero due gruppi suoi Poi queste e poi ritornerebbero soldati Perché vorrei fare le variabili Perché sarebbe più figo Però minchia quante ne siete signori Sì 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 Guardate che cambia molto eh Cacchiarola Si Sì 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 Magari Sì Sì Non lo spazio quasi più Sì 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 Noi le usiamo quasi più Sì Compra E vedi questo è buono Ah vedi Ormai abbiamo uno più decente Ah ok Vedi però ne prendo qualcun altro in più Perché avremo gli altri personaggi Questo potrebbe essere interessante Però mi abbasserebbe troppo Agli altri quindi no Ah buono Ah buono Ah buono Ah buono Ah buono E' interessante come cambiano i caschi Avete visto che sono caschi diversi? Anzi saliamo sopra perché lo voglio rianalizzare con voi A parte che credo che dobbiamo entrare anche da un'altra parte Rientrate un atto signori voglio analizzare una cosa A parte che fra poco entriamo anche in quell'altra struttura Allora abbiamo Ok Questi hanno quattro luci Quattro luci Ma ci ha collato a due? Ah ok no si sono suddivisi in gruppo Non cherebbe Quello dell'arma abbiamo trovato Allora l'ultima è questo qui E' un po' E' un po' E' un po' Sì, sì. Oh? Cosa è? Questo metto è? Tutti, tutti! Sì! 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 Mi sono andato a fare il palermo del palermo del palermo. Tutti, vieni a tutti. Sì! Non è vero che c'è una variabile anche femminile. Non c'era prima. Lo stanno introducendo adesso, l'hanno introdotto. Cosa puramente giusta essendo che... Oh! Oh! Sì, che sembrava. Oh, che sembrava. Sì, non è vero che sembrava. È un uccidio. Questa è una storia che si trova il mondo, ma come è un uccidio che si trova. Questa è un uccidio che si trova inizia. non c'è la prima strano che non c'è nessuno proprio qui guarda che idioti questi qua Sì 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 Vedi loro hanno a due Vedete a due GCR È sbagliato Vedi loro hanno a due GCR 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 c'è i caschi sono di nuovo c'è manca qualcuno ancora manca qualcosa e qualcuno ah quelli sta per avere, ci mancano altri due soldati muoversi, ci mancano altri due no non ci credo cosa sto vedendo no non ci credo cosa sto vedendo no ci credo cosa sto vedendo ma non cosa Ahahahahha E' un po' più bello! E' davvero bello! Grazie a tutti! E' bellissima questa fattura! Sì, è molto difficile, ma ci sono molti persone, eh? Se non si tratta, non si tratta di un'altra cosa. Il Presidente è il Presidente, il Presidente è il Presidente. Il tempo è molto più facile, ma... Mi mancherebbe solo gli ultimi, chissà dove siete. Mi mancano gli ultimi. E mi puzza pure, perché in realtà dovrebbe essere qui in zona. Gli ultimi due. No, non voglio andare, voglio sbloccare tutti. Stanno sempre qui dentro da qualche parte, sono sicuro. Buongiorno, potrebbe essere un po' bello? Ah, mi? Ah, mi sono andata a vedere un paese, ragazzi? Sì, sono andata a vedere un paese, ma sicuramente anche a vedere un paese, ma... Ma se non è, non è un paese, non è un paese, ma non è un paese. Ah, già mi dice che abbia fatto il massimo. Ma mi dice quindi che ho finito, sul serio? Ma scusa, mi dice 8 su 10. Ma io vorrei esplorare un altro po' più a disgamare al 100%, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè qualcuno manca, ma non so chi. Allora, sto pensando. Qui abbiamo visto tutto, questo lato qui. Eccetto, vabbè, il cos'è il bar. Lo stavo controllando. No, qua è tutto chiuso. Quindi abbiamo già controllato tutte queste aree, eh, minchia. Allora, voglio dare giù. Magari c'è un collegamento che non ho visto. No. Quel cavolo, vabbè, i soldati mi stanno spedinando. Dove siete? I soldati mi arriveranno in qualche modo, ma arriveranno. Dove è variare tutti qui, guarda. Ah, ecco il lavoro, come arrivano? Allora, stoppiamo qua. Qua, mo' chiaro, guarda, come arrivano? Guarda, guarda, come arrivano. Un, due, tre, buon Natale a te. La, 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 la. Chi mi hanno detto è forse vero. Andiamo. Perfetto, allora possiamo avviarci. Però, al prossimo video, qui del 38, passo e chiudo. Vai, ragazzi. Grazie. Grazie.